L'etica di Epicuro. Come è noto, l'etica costituisce la parte, l'aspetto più importante e anche più significativo del pensiero di Epicuro. Il pensiero di Epicuro è organizzato sostanzialmente su tre livelli, la teoria della conoscenza, la teoria della natura, cioè la fisica, mentre la teoria della conoscenza era chiamata la canonica, perché studia i canoni, cioè i criteri fondamentali della conoscenza, la teoria della natura, dicevo, cioè la fisica, intesa in senso generale, e infine l'etica. La teoria della conoscenza offre gli strumenti e i criteri per una corretta indagine sulla natura, e quindi è la premessa della fisica, mentre la conoscenza della natura a sua volta costituisce il presupposto di una dottrina etica razionale. Perché? Perché l'uomo fa parte integrante della natura, l'uomo, secondo Epicuro, è radicato nella natura, è un essere naturale, e quindi bisogna conoscere la natura per conoscere l'uomo, bisogna conoscere la natura per conoscere i principi e le leggi che regolano la condotta umana e che possono consentire all'uomo di ottenere la felicità. Sì, perché l'etica di Epicuro ha come suo scopo, come suo obiettivo, il raggiungimento della felicità da parte dell'uomo. La felicità però intesa come una condizione non soltanto di tipo spirituale, ma anche come una condizione materiale, una condizione legata al corpo, una condizione appunto fisica. E anche per quello che riguarda l'aspetto spirituale della felicità. La felicità nel senso spirituale del concetto non consiste per Epicuro, come vedremo e come cercherò di spiegare meglio, nell'esercizio delle facoltà conoscitive superiori dell'uomo, come è invece per Aristotele. Aristotele appunto esalta la cosiddetta vita contemplativa, il bios theoreticos, la vita dedicata alla conoscenza. Bene, la felicità nel senso spirituale del termine per Epicuro non sta in questo, nel dedicare la propria esistenza allo studio, alla riflessione, alla conoscenza, alla meditazione. La felicità nel senso spirituale, ma ripeto c'è anche una felicità nel senso fisico del termine, la felicità nel senso spirituale consiste per Epicuro nella serenità, nella pace con se stessi, nell'equilibrio interiore, nella mancanza di ogni forma di ansia e di turbamento interiore. Ma appunto la felicità per Epicuro ha due volti, due lati, un lato spirituale che è quello che ho appena illustrato, la felicità intesa come serenità, come pace e con se stessi, come tranquillità dell'anima, da un lato, e dall'altro. La felicità intesa in senso fisico, in senso corporeo potremmo dire, cioè la felicità intesa come mancanza di sofferenza fisica, quindi come buona salute. Ecco, la felicità è la somma di queste due componenti, la serenità interiore, la mancanza di turbamento interiore, di turbamento spirituale, la pace con se stessi, da un lato, e dall'altro, la mancanza, la mancanza di sofferenza fisica. Dunque, felicità, lo ripeto per l'ultima volta, è uguale a serenità più buona salute, ovvero mancanza di turbamento interiore e assenza di sofferenza fisica. In greco, la mancanza di turbamento interiore, cioè la serenità, è indicata con la parola atarassia. Atarassia, notate quella A iniziale che indica la mancanza di qualcosa, in greco. e invece la mancanza di sofferenza fisica, quindi la buona salute, è indicata dai greci, e quindi anche dai picuro, con la parola aponia, mancanza di sofferenza fisica. Atarassia e aponia sono le componenti essenziali della felicità. Della felicità è intesa come hedone, hedone, cioè intesa come, oggi forse diremmo, lo star bene, il benessere. In questo senso l'etica di Epicuro è stata correttamente definita, è stata ed è correttamente definita come un'etica hedonistica, perché appunto è un'etica che punta a ottenere una condizione di benessere sia spirituale sia fisico. Benessere inteso come mancanza di turbamento interiore e mancanza di sofferenza fisica. Dunque la virtù consiste nell'applicare intelligentemente le regole di comportamento, le norme di condotta che ci fanno ottenere la hedone, cioè la aponia e la atarassia, cioè la serenità interiore e la buona salute. Dunque come possiamo ottenere l'una e l'altra cosa? Possiamo ottenere l'una e l'altra cosa, cioè la aponia e la atarassia, gestendo, cioè esercitando, in modo accorto, cioè in modo intelligente, cioè in modo equilibrato, i nostri desideri. Alcuni desideri meritano di essere soddisfatti, alcuni bisogni non solo possono ma anche devono essere realizzati, altri invece vanno evitati. E quindi noi dobbiamo cercare il piacere prodotto dal soddisfacimento di certi desideri, dobbiamo invece evitare il piacere che è solo un piacere apparente, un piacere ingannevole, un piacere effimero, momentaneo, un piacere che poi lascia il posto ad un maggiore dolore, dobbiamo, dicevo, evitare il piacere generato da un altro tipo di desideri. Quali sono i desideri che noi dobbiamo assecondare? E quindi qual è il piacere che noi dobbiamo cercare? I desideri che noi dobbiamo assecondare, il piacere che noi dobbiamo cercare, sono i desideri ed è il piacere di tipo naturale e necessario. Devono essere soddisfatti i desideri naturali e necessari. Notate come, di nuovo, la natura acquisti centralità nel pensiero di Epicura. La natura. L'uomo non è separato dalla natura, l'uomo fa tutt'uno con la natura, l'uomo deve assecondare ciò che c'è di naturale in lui. E quali sono i desideri naturali e necessari? I desideri naturali e necessari sono i desideri il cui soddisfacimento è essenziale alla nostra stessa vita. Per esempio il desiderio di nutrirci, il desiderio di idratarci, di bere, di proteggerci, di coprirci, di coprirci, di unirci ad altre persone per dar vita ad una comunità, per andare al di là, diciamo così, della nostra chiusura in noi stessi, della nostra solitudine, generando in questo modo nuova umanità. Quindi è naturale e necessario il desiderio di nutrirsi, naturale e necessario il desiderio di bere, di coprirsi, di proteggersi, di generare figli. Quindi di per sé anche il desiderio sessuale è qualcosa di naturale e necessario di per sé. Il piacere fornito dalla soddisfazione di questi desideri è anch'esso un piacere naturale e necessario. Non c'è assolutamente niente di male nel cercarlo, non c'è assolutamente niente di male, anzi può farci solo bene il cercare di realizzare questi desideri. Anche perché questi desideri producono, dice Epicuro, con una parola difficile, una parola greca difficile, un piacere di tipo katastematico. Katastematico lo possiamo tradurre più semplicemente con stabile. Stabile nel senso di duratura, un piacere che tende a durare abbastanza a lungo. Una volta che io mi sono sfamato, sono sazio per un po' di tempo, non ho più bisogno di nutrirmi di nuovo. Quando ho bevuto a sufficienza, ne ho abbastanza e posso andare avanti per un po' di tempo prima di provare di nuovo sete e così via. I piaceri di tipo katastematico tendono per loro stessa natura, dice Epicuro, a prolungarsi, a dilattare i loro effetti. Ma un conto sono i desideri naturali e necessari, altro conto sono i desideri naturali ma non necessari. È naturale desiderare di nutrirsi, è naturale desiderare di bere, è naturale desiderare coprirsi se sia freddo, è naturale desiderare proteggersi dalle intemperie e dalle condizioni esterne. Ma non è necessario mangiare troppo o nutrirsi con cibi particolarmente sofisticati. Non è necessario bere alcolici o bere troppo. Non è affatto necessario ostentare vestiti particolarmente costosi e particolarmente eleganti soltanto per il desiderio di mettersi in mostra. È naturale cercare una persona con cui star bene e a cui accompagnarsi. Non è necessario andare continuamente alla ricerca di un partner diverso e concedersi e concedersi tante avventure. Ecco, quindi un conto sono i desideri naturali, altro conto sono i desideri necessari. I desideri possono essere naturali ma non necessari. Quindi i desideri naturali non necessari sono i desideri nei quali noi, come dire, esageriamo, cerchiamo il di più, andiamo, aspiriamo a ciò che ci sembra necessariamente migliore di quello che già abbiamo. Ecco, i desideri, per carità naturali, ma non necessari è meglio evitarli. A maggior ragione, a maggior ragione vanno evitati i desideri non naturali e non necessari. Questi sono fra tutti quelli che per primi vanno evitati. I desideri non naturali e non necessari. Cosa intende? E figura quando parla di desideri non naturali e non necessari. Desideri non naturali e non necessari sono i cosiddetti vizi. I vizi. appunto, per esempio, il vizio del bere, non la pura e semplice, è cosa che anch'essa non va bene, ricerca di qualche bevanda particolarmente sofisticata, di qualche vino particolarmente pregiato, ma il vizio del bere, cioè l'essere schiavi di questo desiderio, il non poterne fare a meno. E tutti gli altri vizi a cui si può pensare, cioè tutte le inclinazioni di cui noi siamo schiavi e che danneggiano la nostra vita, la nostra esistenza, lì per lì ci fanno sentire bene, ma poi, subito dopo, lasciano il posto ad una condizione di sofferenza. L'alcolista, per esempio, lì per lì, dopo aver soddisfatto il suo desiderio, appunto, di alcol, il suo desiderio di bere, sta bene. Poi però avverte immediatamente le conseguenze negative di questo, avverte ben presto le conseguenze negative di questo vizio. Lo stesso si potrebbe dire per tutti gli altri vizi. Naturalmente al tempo di Epicuro non esistevano ancora le sigarette, non esistevano ancora le droghe, però quello che vale in generale riguardo ai desideri non naturali e non necessari si applica benissimo, appunto, anche al vizio del fumare, oppure alle tossicodipendenze e a tanti altri vizi. Pensiamo al vizio del fumo, del fumare. Lì per lì chi fuma una sigaretta è appagato, sta bene, bene, è contento, poi però alla lunga la paga, e anzi, sa benissimo, dopo aver soddisfatto questo suo desiderio, che la cosa gli ha fatto male. Ecco, un desiderio non naturale e non necessario. E i desideri non naturali e non necessari, ma anche i desideri naturali e non necessari, hanno gli uni e gli altri la caratteristica di essere desideri, dice Epicuro, cinetici, mentre i desideri naturali e necessari sono catastematici, cioè producono un piacere stabile, prolungato, un piacere che tende a rimanere, invece una soddisfazione che tende a rimanere, a stabilizzarsi, invece i desideri naturali, ma non necessari e i desideri non naturali e non necessari, hanno la caratteristica di tenerci sempre in movimento. In questo senso Epicuro li chiama desideri cinetici. In che senso? I desideri naturali ma non necessari e i desideri non naturali e non necessari ci tengono in movimento. Nel senso che producono in noi uno stato di inquietudine, di tensione. Ci spingono, ci stimolano a cercare immediatamente la ripetizione del piacere apparente, peraltro, ottenuto dalla loro soddisfazione, oppure ci spingono a cercare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di più, qualcosa di ancora più, più, diciamo, gratificante di quello che già abbiamo. Per esempio, per esempio, il desiderio naturale, ma non necessario, di vestirsi con abiti particolarmente costosi, ci spinge a non contentarci mai di quello che abbiamo mai di quello che abbiamo già, e a cercare sempre qualcosa di più sofisticato, di più costoso, di più, diciamo, prestigioso magari agli occhi degli altri. Oppure si comincia con il bere 2-3 bicchieri al giorno e si va avanti alzando sempre più le dosi fino a che, diciamo, la quantità diventa incontrollabile. E non ne abbiamo mai abbastanza. Andiamo sempre alla ricerca di ciò che soddisfa il nostro desiderio. Quindi i desideri cinetici sono quelli, appunto, che ci spingono, ci stimolano, ci pungolano, ci inducono in continuazione, in continuazione, a ricercare la loro soddisfazione. Non appena li abbiamo soddisfatti, subito dopo, come dire, si ripresentano con una forza ancora più intensa e mantengono la nostra esistenza in uno stato di continua tensione e di continua insoddisfazione. Quindi devono essere scartati. Cerchiamo soltanto di soddisfare i desideri minimali, i desideri più essenziali, i desideri più fondamentali e gli altri lasciamoli perdere. In questo modo otteniamo la buona salute, da un lato, e la pace con noi stessi, la serenità, la tranquillità con noi stessi. Tra i desideri non naturali e non necessari, Epicuro include quelli che lui chiama i desideri vani, cioè i desideri inutili, la ricchezza, il potere, la gloria, la celebrità, il successo, lasciamoli perdere. Questo, naturalmente, implica da parte di Epicuro un giudizio decisamente negativo, da buon filosofo ellenistico, sulla politica e sull'impegno politico. Per lui la politica è, appunto, condizionata dal desiderio non naturale e non necessario, una specie di vizio, una specie di droga, del potere. Che si impegna in politica e, secondo Epicuro, troppo esposto alla tentazione del potere, di avere sempre più potere. E questo gli toglie tranquillità, serenità, pace con se stesso, equilibrio. Quindi, lasciamo perdere la politica e viviamo nascosti, dice Epicuro, con una bella espressione. Vivi nascosto, raccomanda Epicuro a un suo amico. Vivi nascosto, cioè non metterti in mostra, non porti al centro della scena, non cercare di attirare l'attenzione degli altri e quindi non cercare il successo, la popolarità, il prestigio, il plauso degli altri, il potere. Vivi appartato, conduci la tua esistenza serena, tranquilla, pacifica, senza l'ossessione, appunto, del successo, della gloria, della fama, della ricchezza, del potere. Vivi nascosto. Invece, credo che Epicuro abbia assolutamente ragione, assolutamente. Epicuro considera l'amicizia come un desiderio naturale e necessario. Quindi, un desiderio che deve essere assecondato, un desiderio il cui soddisfacimento ci regala serenità e felicità. Perché l'amicizia è un desiderio naturale e necessario ed è davvero capace di renderci felici? Chiunque abbia un amico lo sa, può rispondere a questa domanda. L'amicizia è un sentimento che, come dire, non ci presenta mai un conto negativo, non ha mai una contropartita in dolore, sofferenza e turbamento. Quando stiamo con i nostri amici siamo sempre e solo contenti. Ma, attenzione, quando i nostri amici non sono presenti, comunque, comunque, il solo pensiero di poter contare sulla loro amicizia ci rasserena. Chi è davvero amico di qualcuno, chi è realmente amico di qualcuno, non ne è geloso. Lascia che i suoi amici abbiano altri amici. Quindi, l'amicizia, diciamo, non diminuisce per il fatto di moltiplicarsi. L'amicizia arreca soltanto gioia e soltanto felicità, quando è vera amicizia. L'amicizia riempie la nostra vita. Su un amico noi possiamo contare sempre. Possiamo anche stare lontani da lui o da lei per anni e poi lo ritroveremo legato a noi esattamente come se fosse trascorso soltanto un giorno. L'amicizia non chiede nulla in cambio. E quindi è davvero un piacere capace di renderci felici. Un piacere stabile. Un ultimo importante passaggio, un ultimo importante aspetto dell'etica donistica di Epicuro è la cosiddetta dottrina del quadrifarmaco. La dottrina del quadrifarmaco. Quadrifarmaco vuol dire la quadruplice medicina. Come dire, un vaccino tetravalente. Tetravalente vuol dire che è capace di combattere quattro tipi di virus. La dottrina del quadrifarmaco. Allora, in cosa consiste? Perché Epicuro la chiama così? Quali sarebbero le quattro malattie che Epicuro si propone di combattere con questa dottrina? Allora, torniamo alla ricetta Epicurea della felicità. La felicità consiste nella aponia, cioè nella mancanza di sofferenza fisica, quindi nella buona salute. E quindi quanto migliore è la nostra condizione di salute, tanto più siamo felici. Ma la felicità consiste soprattutto, soprattutto, nella atarassia, cioè nel benessere spirituale, nella pace con se stessi, nell'assenza di turbamenti, nella serenità, nell'equilibrio interiore, nella mancanza di ansie e di paure. Appunto, la dottrina del quadrifarmaco intende liberarci da quattro fondamentali paure che sono vere e proprie malattie dell'anima. E quali sono queste quattro paure di cui noi dobbiamo liberarci? Queste quattro malattie dell'anima che ci tolgono serenità, equilibrio e turbamento? E come le possiamo sconfiggere, queste quattro malattie dell'anima? Queste quattro fonti di ansia capaci di turbare la nostra esistenza fino a toglierci il sonno? Sono, dice Epicuro, la paura degli dèi Noi diremmo la paura del giudizio di Dio, comunque La paura degli dèi La paura della morte La paura del dolore fisico E infine, la paura di non poter ottenere il piacere inteso come, appunto, hedonè, come quella forma di felicità di cui parla Epicuro. Allora, per quanto riguarda la paura del giudizio degli dèi Noi non dobbiamo temere il giudizio degli dèi Non dobbiamo avere paura che gli dèi ci puniscono per quello che facciamo o non facciamo Oppure non ci premino per la nostra virtù, eccetera Allora, di questo tipo di paura dobbiamo sbarazzarci semplicemente perché, dice Epicuro Gli dèi sono del tutto indifferenti al nostro destino, a quello che noi facciamo o non facciamo Assolutamente sono disinteressati alla nostra vita Loro vivono felici e beati nei loro mondi e non si curano delle vicende umane Sono soltanto per noi uomini un bellissimo esempio di vita perfettamente realizzata e perfettamente felice Quindi è del tutto inutile e sciocco temere il giudizio degli dèi Gli dèi, ripeto, non si curano, non si interessano delle vicende umane Per quanto riguarda la paura della morte Qui occorre tornare alla fisica di Epicuro Che poi è sostanzialmente la fisica di Democrito In cosa consiste la morte? La morte consiste nella disgregazione di quel composto di atomi che ci costituisce Quando moriamo, gli atomi da cui noi siamo costituiti, da cui siamo formati, da cui siamo composti Si slegano, si sciolgono e noi cessiamo di esistere Dopo la nostra esistenza subentra la fine del nostro essere E gli atomi rimessi in libertà vanno ad aggregarsi con altri atomi per dare luogo ad altre forme di realtà E ad altre forme di vita Quindi, finché ci siamo noi, non c'è la morte Quando c'è la morte, noi non ci siamo Che cosa ci sia dopo la morte è una domanda del tutto inutile, del tutto priva di senso Semplicemente, dopo la morte non c'è nulla Dopo la nostra morte non c'è nulla Ci sono gli atomi che tornano a ricombinarsi in altro modo e in altre forme E quindi non dobbiamo avere paura della morte Se per paura della morte si intende ciò che ci attende dopo la morte Dopo la morte semplicemente noi non ci saremo Non saremo lì a vedere che cosa ci aspetta Per quanto riguarda la paura del dolore fisico Beh, il dolore fisico o è lieve La terza paura appunto della quale dobbiamo liberarci Qual è l'antidoto a questa paura? L'antidoto a questa paura, la paura del dolore della sofferenza fisica Consiste nella consapevolezza che il dolore o è lieve e quindi è sopportabile Oppure è acuto E se è acuto, questo dolore fisico O dura poco E quindi va sopportato perché presto passa O conduce alla morte Ma se conduce alla morte Allora non dobbiamo averne paura Perché non dobbiamo avere paura della morte come dicevamo prima Infine, per quanto riguarda la paura di non poter ottenere la felicità Di questa paura noi dobbiamo sbarazzarci In che modo? Semplicemente applicando, diciamo, le prescrizioni, i suggerimenti del quadrifarmaco E applicando saggiamente le indicazioni etiche che ci propone Epicuro Detto tutto questo Io non credo che il quadrifarmaco di Epicuro Sia davvero efficace nel combattere definitivamente il virus dell'ansia Che può replicarsi in forme diversissime È un virus mutante Però credo che Epicuro ci dia una mano preziosa Almeno nel tentativo di governare Le nostre ansie, le nostre paure E nel tentativo di indirizzare Di gestire In modo Intelligente e razionale Il nostro bisogno di felicità Bene, con questo Su Epicuro Abbiamo terminato E quindi vi ringrazio per l'attenzione Alla prossima